Allora, mister Di Fabio, una partita rocambolesca al 43esimo ancora sotto 2-0, alla fine un 2 pari. Sì, è stata una bella partita, bella maschia, un campo pesante dove i toni agonistici sono stati molto elevati. Penso che forse sia stata la partita in cui abbiamo sofferto di più. Il Tolentino ha fatto davvero una grandissima partita e forse avrebbe meritato anche la vittoria, anche se noi non abbiamo mollato, ci abbiamo creduto e alla fine abbiamo ottenuto questo pareggio che magari, proprio come dici tu, a due minuti alla fine sembrava impensabile. Però questi ragazzi non smettono mai di stupirmi, quindi va bene così. Ecco, mister, sembra la stagione dei segnali positivi. Anche domenica scorsa, a finale rocambolesco, la recanatessa che aveva tentato qua si trovava il gol del vantaggio, poi per l'identità del vantaggio è arrivato da parte vostra. Sì, è un po' diverso da oggi, capito così, perché poi noi abbiamo avuto ulteriori occasioni poi per chiuderla anche la partita, anche sull'1-1 abbiamo avuto occasione anche noi domenica per far gol. Oggi abbiamo avuto anche noi oggi l'occasione del pareggio, a porta vuota è stato ribattuto un tiro sulla linea, però devo dire al di là delle occasioni che è stata la partita in cui abbiamo sofferto di più. Il Tolentino a livello agonistico ci ha dato un grande filo da torcere ed è stato sempre presente in tutta la partita, quindi siamo stati un po' in difficoltà, però poi il carattere di questa squadra è ormai conosciuto e quindi abbiamo ottenuto questo pareggio e alla fine anche meritato. Allora, mister, un punto che prima della partita avrebbe sottoscritto, ma per come andate alla gara forse un po' di rammarico c'è. No, non avrei sottoscritto nulla, neanche prima della partita. Dispiace, abbiamo fatto una partita esemplare, dispiace per i due minuti, due punti persi, ma non cambia la valutazione penso sulla squadra, sui ragazzi. Ci abbiamo avuto un atteggiamento giusto, bello, perché come abbiamo lavorato meritavamo tre punti, sei punti anche se nel calcio non esistono. Siamo feriti, però da questa prestazione bisogna uscirne con forza e ancora più con coraggio, perché ci fa capire che possiamo giocarcela con tutti. Prima o poi le ingestizie finiranno, finiranno con gli atteggiamenti, come abbiamo lavorato oggi. Dispiace perché abbiamo fatto una partita capolavoro, capolavoro sia tecnico che tattico, che come atteggiamento. Questa partita ci deve dare forza. Siamo amareggiati, siamo feriti, però non siamo morti, siamo più vivi che mai. Guardando un attimino la gara, pur sapendo che praticamente la squadra era ferma da più di due settimane, ha lottato pallone su pallone in un campo al limite della praticabilità. Senza presunzione da quando sono quattro anni qua, io la squadra del Tolentino ha giocato sempre così, sempre con questo piglio, sempre con questa cattiveria, con queste giocate. Questa squadra ha sbagliato soltanto mezzotempo con il Matese. Dispiace, però questa squadra come valore dei ragazzi, come atteggiamento, sicuramente non è in viore a nessuno. Forse tecnicamente siamo in viore a qualcuno, ma moralmente siamo una squadra forte. oggi proprio non si può parlare di errori e dispiace, perché il tiro sul primo angolo era fuori, cioè non parliamo di niente. In questo momento è l'episodio, però non cambia secondo me la valutazione. Dispiace per tutti, però dobbiamo ripartire da qui. Sarà dura, difficile, ma arriveremo a portare la nave al porto. Grazie. Grazie.